Qui, 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 dal red carpet dell'Ariano Film Festival con Franco Pini un po' di luci e ombre. Franco, allora buonasera. Buonasera a te. Siamo sul selfie? Siamo sul selfie, eccoci qua. Come si chiama di cognome? Ti riesci a vedere? Selfie Giovanni. Selfie USA, come cantava un famoso gruppo. Allora, un saluto a tutti gli amici di Montacuto che ci stanno guardando. Gli amici di Montacuto hanno un udito affutissimo, per cui ci sentono. Ciao amici! Ciao Franco, grazie! Selfie! Selfie! Selfie a tutti! Una volta il selfie era un'altra cosa però, quando ci si faceva da soli. E si rischiava la vista, va bene, non lo diciamo. E venivano i brufoli. Grazie Franco, grazie mille. Allora, sì, scattiamo foto, vi facciamo vedere un'altra panoramica. Vediamo fra poco!